Il giubileo che ha visto protagonisti e collaboratori del Papa al servizio della Chiesa Universale, i dipendenti vaticani e i loro familiari. A loro il Pontefice si è rivolto nell'Omelia della Messa celebrata in Basilica al termine della processione. Il nostro pensiero e il nostro sguardo siano fissi su Gesù Cristo, inizio e fine di ogni azione della Chiesa. Lui è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso. Lui è la pietra su cui dobbiamo costruire. Solo per questo ha chiarito Papa Francesco, citando Sant'Agostino, la Chiesa pur agitata e scossa per le vicende della storia non crolla perché è fondata sulla pietra, da cui Pietro deriva il suo nome. E poi si è rivolto ai pastori della Chiesa, invitati a lasciare che il volto di Dio Buon Pastore ci illumini, ci purifichi, ci trasformi e ci restituisca pienamente rinnovati alla nostra missione. Che anche nei nostri ambienti di lavoro possiamo sentire, coltivare e praticare un forte senso pastorale, anzitutto verso le persone che incontriamo tutti i giorni. Che nessuno si senta trascurato o maltrattato, ma ognuno possa sperimentare prima di tutto qui la cura premurosa del Buon Pastore. Tra i concelebranti è anche il teologo gesuita padre Marco Ivan Rupnik, direttore del Centro Aletti, che aveva aperto la giornata del Giubileo della Curia Romana con una meditazione presente anche il Papa. Questo è il pastore, cioè la vicinanza, l'unità con il popolo, il cammino insieme, la solidarietà con il popolo, essere provati con ciò che ha provato il popolo. Però in mezzo a questa prova far vedere che sta penetrando dentro di noi una vita che esce da questa prova proprio come il vino esce dal grappolo. La storia è un torchio, non c'è dubbio, ma i pastori sono proprio quelli che fanno vedere che il torchio non è ultima stazione. Se noi abbiamo una vita che è quella della vite, allora dopo il torchio comincia il bello. Il mosto e il vino. Questa è la Chiesa bella, ha detto nella sua meditazione padre Rupnik, che dentro i suoi gesti e le sue parole fa emergere un altro, il figlio e ancor più il padre. Se la Chiesa riesce a cogliere questo stile di vita, questa vita che è uno nell'altro, diventa bella. E io penso che davanti a una realtà bella uno sente un fascino, si sente attirato, si sente chiamato, si incamina dietro. Mentre quando si mette accento sulla nostra coerenza, sulla nostra bravura, allora si torna in quel mondo antico, classico degli eroi, che sono una cosa completa, perfetta. si applaude, ma uno dice, beh, ma io non sono così però, no? E poi c'è il grosso rischio di far vedere se stessi. Ma Chiesa non è chiamata a far vedere se stessa, ma lo sposo. In una Chiesa, in una curia belle, ha concluso il teologo gesuita, ci sono molte persone libere, libere da se stesse, che si offrono disponibili generose, che aprono. Io penso che quando uno incontra un paio di persone libere di se stesse, è veramente una rivelazione, perché è una umanità diversa, trasparente, non opaca, non ingrovigliata, ma sciolta, è bellissimo questo.